Eccoci qui come state, un saluto a tutti ben ritrovati, invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un bel like e a iscrivervi qui se lo avete ancora fatto, ci tengo, fatelo numerosissimi. Allora vorrei restare ovviamente sulla notizia, diciamo così, del giorno, comunque l'evento che ieri ha fatto discutere in serata ovviamente lo 0222 di Milan-Napoli, di Napoli-Milan. Voglio farvi vedere due documenti che mi hanno molto colpito, uno è questo, Leao in campo, che può servire Romero, che secondo me non doveva entrare, ma è lì, è una situazione molto buona, e invece fa un pallonetto scandaloso, ridicolo, ma proprio ridicolo. Però ci fa capire come anche il gruppo stesso Romero non è che lo consideri un granché, doveva dargliela, non doveva fare quel pallonetto, ripeto, ridicolo. Dall'altra parte, sempre su Raffaleao, guardate, guardate qui, siamo al momento della sostituzione, guardate com'è, furibondo. Adli, Pobega, cercano un po' di calmarlo, lui va avanti per la sua strada, guardate Florenzi che fa tutto a ritroso per calmarlo, e lui arriva con l'obiettivo di andare da Pioli, molto, molto, molto arrabbiato, e poi si avvicinerà anche Pioli. Vedete, chiede spiegazioni, guardando Pioli, e Pioli dice, devo cambiare, insomma, e poi lui va in panchina, davvero molto, molto, molto arrabbiato, a torto ragione, poi ognuno ha proprio punto di vista, ecco, e poi tira un calcio a qualcosa, scena molto forte, che ci fa capire che cosa? Che in questo momento, forse, Pioli non ha ben saldo lo spogliatoio, perché è una scena evidente questa, che in altri tempi l'Auno l'avrebbe fatto, tra l'altro neanche dopo una grande partita, io l'avrei tenuto perché è uno che crea sempre pericoli, però ecco, abbiamo visto il brutto in campo, e questa scena che è molto, molto forte, e che può essere anche indicativa di un rapporto complicato, Pioli che dice così. Che ne pensate di queste immagini? Commentate e datemi il vostro punto di vista, ci tengo. Iscrivetevi qui numerosi e lasciate un bel like. Ciao!